Salve! Nella prima parte della lezione abbiamo visto come un docente può associare le competenze ad un corso e alle attività dello stesso corso, programmando anche criteri per l'attestazione automatica del conseguimento della competenza da parte degli studenti. In questa seconda parte della lezione vedremo come uno studente può interagire sulle competenze acquisite o da acquisire in un corso e con quelle previste nel proprio piano di formazione. Vedremo inoltre come un docente può monitorare l'acquisizione delle competenze da parte di ogni singolo studente del suo corso ed eventualmente come riconoscere e valutare una competenza prevista dal piano di formazione di uno studente acquisita con la formazione e l'esperienza pregressa. Buona visione! sono entrato ora nella pagina del corso con l'account di uno studente che ha completato le due attività associate alle competenze che prima abbiamo impostato. Lo studente può visualizzare lo stato di completamento delle competenze abbinate al corso andando a selezionare la voce competenze nel menu del corso. In alto della pagina vedrà una barra di avanzamento che indica il numero di competenze conseguite rispetto alle competenze associate al corso. scendendo in basso troverà il dettaglio delle competenze che sono associate al corso. Nel caso abbia raggiunto una competenza in questo caso vedrà anche la relativa valutazione. Facendo clic sul titolo della competenza lo studente accede alla pagina di dettaglio della competenza. qui vedrà le stesse cose che vedeva prima nella pagina di riepilogo. In più vedrà chiaramente le attività correlate, la valutazione conseguita e l'attestazione delle attività che hanno portato al conseguimento di questa competenza. Facendo un link su una delle attività di attestazione lo studente può accedere alla pagina di riepilogo di quella attività. Se a uno studente è stato assegnato un piano di formazione, dalla pagina delle competenze vedrà anche il collegamento della competenza con il relativo piano di formazione. Con un clic sul link del piano di formazione lo studente può prendere visione dell'intero piano di formazione assegnato e in corrispondenza di ogni competenza verificare se ha conseguito o no una valutazione per quella competenza. nel caso per ogni competenza lui può anche chiedere una revisione, cioè l'assegnazione di una valutazione magari in forza di una formazione pregressa. In questo caso in corrispondenza della competenza di cui vuol richiedere la revisione va su link modifica e fa clic su richiedi revisione. Se nella pagina di dashboard è stato aggiunto anche il blocco piani di formazione, lo studente potrà accedere all'elenco del suo piano di formazione anche direttamente dalla dashboard. nella pagina principale dei piani di formazione assegnato agli studenti troviamo anche il link per poter attestare una formazione pregressa. Con un clic sul link attestazione della formazione pregressa va nella pagina delle attestazioni e qui aggiunge una attestazione, gli da un nome e compila tutte le parti. Quindi ha a disposizione una descrizione, può aggiungere un url di riferimento ed eventualmente aggiungere file che comprovano questa formazione pregressa e fa salva modifiche. A questo punto la richiesta deve essere associata quindi collegata ad una competenza. Quindi clic su collega competenza e seleziona la competenza per cui aveva chiesto la revisione. Quando il docente fa accesso alla piattaforma accede quindi alla sua pagina di dashboard. Se in questa pagina è stato incluso il blocco piani di formazione il docente vedrà la richiesta di revisione che è stata formulata dallo studente. Quindi con un clic andrà ad aprire la pagina della competenza e della revisione richiesta dallo studente. A questo punto potrà annullare la richiesta di revisione oppure dare inizio alla revisione e lo studente potrà verificare che è in corso una revisione. Dopo aver analizzato diciamo le attestazioni presentate dallo studente potrà procedere se lo ritieni ad una valutazione. Oppure nel caso non ritenga questa attestazione valida terminare semplicemente la revisione senza procedere ad alcuna valutazione. Con i video di questa lezione ho mostrato come un docente può includere e gestire le competenze all'interno di un corso condotto sulla piattaforma Moodle. Poiché questo corso è indirizzato esplicitamente ai docenti non ho mostrato come un amministratore della piattaforma possa creare i quadri delle competenze e i modelli di piani di formazione. Ma coloro che fossero interessati all'argomento possono sicuramente trovare tutte le indicazioni necessarie all'interno della documentazione ufficiale di Moodle. Nella prossima lezione penso di mostrare come progettare le attività che utilizzano lo standard H5P. H5P è una tecnologia che permette di progettare learning object utilizzando il linguaggio HTML5 che possono poi essere importati all'interno di corsi gestiti su una piattaforma di tipo LMS come Moodle. Moodle integra in maniera nativa questa tecnologia consentendo sia di importare da altre fonti oggetti didattici H5P all'interno dei propri corsi sia di progettarli direttamente all'interno della piattaforma. La tecnologia è molto promettente e permette di progettare attività didattiche che coinvolgono attivamente gli studenti. Arrivederci al prossimo video.